configurazione veloce allarme 2008 ottenere premuto code selezionare la zona ad esempio 1 selezionare il permesso out aprire il sensore prima è configurato selezionare un'altra zona per un altro sensore 2 premere sempre il permesso out ed azionare il secondo sensore stessa cosa per i telecomandi basterà premere un pulsante code la codifica è finita armiamo attendiamo i secondi d'uscita proviamo ad azionare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti